Stiamo parlando di un'opportunità offerta ai ragazzi delle scuole superiori, terza, quarta e quinta superiori degli istituti professionali, degli istituti tecnici e anche dei licei. È un'opportunità per conoscere il mondo del lavoro, è un'opportunità sia per i ragazzi che per le scuole di avvicinarsi e di fare un'esperienza concreta in azienda. Anche per le aziende è un'opportunità se sfruttata bene, come ad esempio viene fatto da anni nei paesi europei, prima di tutto la Germania, perché può essere una base per scoprire nuovi talenti per poi inserire in azienda successivamente. Il tirocinio offerto è un tirocinio gratuito. Stiamo parlando di un monte ore che varia dalle 400 per gli istituti tecnici e professionali alle 200 ore per i licei, che vengono suddivisi in circa tre settimane all'anno da concordare poi con le aziende e con le scuole. Le aziende devono registrarsi nel portale della Camera di Commercio. In questo portale dichiareranno quanti studenti intendono ospitare, dichiareranno le mansioni e i periodi più consoni per l'inserimento. Se non fanno questa registrazione possono comunque avvalersi dell'assistenza degli uffici della Commercio che faranno da tramite con le scuole, assisteranno le aziende anche per quanto riguarda la parte documentale per la redazione delle convenzioni.